Anche quest'anno uno degli appuntamenti imperdibili è a Tarvisio per AIMPROZIT. Dal 19 al 23 novembre ci sarà la possibilità di assaggiare quello che è il meglio della gastronomia internazionale. Con AIMPROZIT si chiude l'annata storica per il Fiore Venezia Giulia. È stata una stagione turistica molto buona, nonostante le aspettative di crisi, siamo l'unica regione a mostrare numeri positivi, siamo molto orgogliosi di questo. AIMPROZIT è la ciliegina sulla torta e una gastronomia di qualità internazionale per una fine settimana in cui poter scoprire il tarvisiano, bere e mangiare in maniera strepitosa grazie anche alla ristorazione offerta da chef che provengono da ogni parte del mondo. Nonostante la stagione atipica, AIMPROZIT riesce a riscuotere grande successo. AIMPROZIT è un'iniziativa sicuramente di grandissima eccellenza che si svolge nella nostra regione. Ha veramente una valenza di carattere internazionale, per cui da questo punto di vista ha sicuramente il sostegno ancora maggiore dell'ente del turismo regionale, che ricordo è molto interessato a tutto quello che cattura la visibilità della nostra regione fuori dalla regione e fuori dai confini anche nazionali. Anche per AIMPROZIT la formula all inclusive è risultata una formula vincente. Sì, anche per AIMPROZIT abbiamo proposto un pacchetto all inclusive, un prenotamento valido per due notti in alberghi e strutture a tre stelle, un ingresso a una delle degustazioni guidate per vista del programma e due ingressi alla mostra di assaggio a Palazzo Veneziano, uno valido per il sabato e uno valido per la domenica. Il tutto a 99 euro.